C'è un giorno di lavoro con le principali realtà imprenditoriali che operano in Liguria, da Finmeccanica a Fincantieri, a numerose aziende manifatturierie, anche ad aziende che operano in questo momento in Liguria, per esempio in grandi opere infrastrutturali, chiedendo loro di confrontarsi con le istituzioni locali, i comuni, le province, la regione, con il sindacato, perché ci sembra che in questo momento l'attenzione sia tutta spostata verso la riforma del sistema politico, si pari troppo poco alla grande crisi del lavoro. Forse non ci si renda conto del tutto che se passassimo un anno solamente a fare riforme elettorali e quant'altro, per un anno questo paese sarebbe in ginocchio. Abbiamo pensato a un momento di riflessione da tutti questi soggetti, con la presenza del Cardinale Bagnasco, espressione della Chiesa che è da sempre molto attenta e presente su questa discussione che riguarda l'attività produttiva, il porto, il mondo del lavoro. Una giornata in cui noi possiamo certo chiedere cose, la modifica al patto di stabilità, al pagamento dei crediti alle imprese, al rifinanziamento della cassa integrazione che ormai è praticamente non più coperta, ma in cui possiamo mettere in campo anche qualcosa che la Liguria può dare al paese in termini di un'economia marittima portuale in cui siamo molto forti, anche oltre alla crisi, in cui diamo moltissime risorse anche in termini di alciso, l'erario, 5 miliardi l'anno, che possono aumentare se aumenta un po' l'attenzione alla disponibilità verso un settore molto trinante per l'economia genovese e Liguria. È un confronto che comincia, ma non vorremmo finire quella mattina lì, siamo in un momento in cui possiamo prendere molte decisioni, come un nuovo impulso all'attività cantieristica sestiponente, come l'effettivo avvio del lavoro del terzo valico, una discussione delicatissima sulla cultura di Ansaldo, solo per citare alcuni dei temi, poi ne sentiremo tante altre e speriamo che ne possa nascere una discussione che metta in campo decisioni operativi. È un momento in cui non ci possiamo permettere tempi lunghi per decisioni importanti.